Dopo la recensione di Galaxy S21 Ultra che abbiamo visto e ti lascio nelle schede, oggi vediamo un confronto con l'altro top di gamma di casa Samsung, ovvero il Galaxy Z Fold 2. Lo smartphone pieghevole, il migliore secondo me attualmente disponibile, e andremo a vedere quale conviene avendo un budget piuttosto elevato acquistare, mettendo a confronto anche le due esperienze di utilizzo disponibili. Questo non è l'unico video di confronto perché ne uscirà un altro che si è già uscito e ti lascio nelle schede con il confronto tra S21 Ultra e Galaxy Note 10 Plus, quindi un terminale un po' più vecchio che per oggi possiamo acquistare ha molto meno. Detto questo, iniziamo! Eccoci davanti ai due smartphone e ovviamente la prima cosa che notiamo è la grande differenza in termini di dimensioni. Chiaramente anche come vengono poggiati sulla superficie va a cambiare il tipo di formazione che hanno sul lato fisico perché l'S21 Ultra ha la grande fotocamera, il modulo migliore della serie S21 che sporge quindi con questo gradino che abbiamo visto anche durante la recensione, mentre il Galaxy Z Fold 2 ha comunque uno scalino relativo al modulo fotocamera che però è meno netto rispetto a tutto lo smartphone, tutta la sagoma che ha quando lo andiamo a poggiare su una superficie. Qui ovviamente abbiamo due smartphone in uno per così dire perché abbiamo sia lo schermo esterno, quindi quello che riguarda la possibilità di utilizzarlo ad una mano rapidamente, tra l'altro con lettore di impronte sulla parte laterale, e ovviamente quello che riguarda l'utilizzo interno che avrà sempre il lettore da quel lato e uno schermo sicuramente molto più grande. Il lettore di impronte in questo caso è presente nella parte interna dello schermo su Galaxy S21 Ultra. Sul piano della risoluzione e della qualità degli schermo abbiamo ovviamente come per tutta la scheda tecnica due tra i migliori smartphone in circolazione, ovviamente per questo confronto non ci poniamo particolari limiti in termini di spesa o di budget, però bisogna dire che il Galaxy S21 Ultra costa qualcosa in meno rispetto al Fold 2, ma quest'ultimo è disponibile anche con uno sconto di circa 500-600 euro, alcune volte l'ho segnato sul canale Telegram in super sconto, quindi non si discosta tantissimo in termini di prezzo e percentuale rispetto a quello che attualmente costa un S21 Ultra. Entrambi gli schermi sono dei Dynamic AMOLED, quindi schermi AMOLED che permettono di ottenere una luminosità, profondità dei colori, che onestamente non trova altri riscontri sul mercato, come sapete utilizzo da anni solo smartphone Samsung principalmente, perché è il tipo di pannello che preferisco e dà un'esperienza sicuramente migliore a tanti altri top di gamma che troviamo a disposizione. Comunque abbiamo 7,6 pollici per quanto riguarda il Galaxy Z Fold 2 aperto, mentre 6,8 pollici per il Galaxy S21 Ultra. Si tratta di due schermi a 120 Hz, quindi il refresh rate variabile che possiamo gestire tramite le impostazioni da entrambe le parti, dove possiamo andare a scegliere lato schermo, ovviamente la possibilità di adattare l'uniformità di movimento, quindi renderla adattiva ce l'ho praticamente così su tutti gli smartphone che ho a disposizione con questa possibilità, quindi refresh rate adattivo che va ad aumentare nelle applicazioni che lo supportano, quindi ad esempio nel menu delle impostazioni è supportato, altrimenti per una questione energetica posso impostare standard, ma entrambi gli smartphone, nonostante abbiano un chipset diverso, di due generazioni diverse, l'S21 Ultra vince sul lato della potenza, ovviamente non hanno alcun tipo di problema in ottica autonomia. Abbiamo 4.500 mAh sul Galaxy Z Fold 2, che è anche più grande, quindi c'è anche spazio per così dire, e 5.000 mAh sul Galaxy S21 Ultra. Qui abbiamo l'Exynos 2100, un nuovo chipset di Samsung che, come ho detto, è molto più potente in termini di potenza computazionale, ma non si nota utilizzando lo smartphone la differenza rispetto allo Z Fold 2, dove troviamo uno Snapdragon praticamente, quindi normalmente avremmo avuto una differenza in ottica di consumi, ma col processo produttivo a 5 nanometri dell'Exynos 2100, che troviamo sull'S21 Ultra e 5.000 mAh di batteria, diciamo che non ci sono assolutamente problemi dal punto di vista appunto del consumo, dell'autonomia anche sotto sforzo. Da quest'altra parte, come ho spiegato, 4.500 mAh, quindi batteria più piccola, ma su per giù, in termini di utilizzo pratico, non ho dato particolari differenze utilizzando gli altri durante la giornata, o comunque in tanti scenari differenti, anche col navigatore con consumo energetico elevato. Lo Snapdragon che troviamo è l'865+, che ha un processo a 7 nanometri migliorato, mentre qui abbiamo un processo produttivo molto più recente. Per quanto riguarda la RAM abbiamo 12 GB di RAM da entrambe le parti, se prendiamo la versione da mezzo terabyte dell'S21 Ultra, potremmo averne 16 a disposizione, ma francamente non ce ne è chissà quale bisogno, come ho spiegato nella recensione, come detto trovate nelle schede, perché tutta questa RAM è più che sufficiente anche per gestire tante app. Tutta questa RAM chiaramente ci può dare una mano in fase di multitasking, ma anche andandola a spingere parecchio con l'esecuzione di app multiple, diciamo che non c'è nessun tipo di rallentamento. Posso anche utilizzare qualcosa di pesante come Maps direttamente dal browser, anche senza utilizzare l'app dedicata, ma qui arriviamo su uno dei punti cardine che può essere relativo alla scelta. Ovviamente qui abbiamo uno smartphone più maneggevole, anche di una sola mano, con la possibilità di gestire il multitasking, ma qui avremo molto molto più spazio, che ovviamente è uno dei plus assoluti del Galaxy Fold 2. Ovviamente quando vado a chiudere il tutto, non avrò nel caso del multitasking lo stesso tipo di interfaccia, posso gestire come meglio voglio anche nella parte frontale, andando a ovviamente riadattare il tutto, quindi potrò beneficiare dello stesso tipo di esperienza con un display un po' più ristretto come vediamo, anche quando ho lo smartphone chiuso. Ovviamente, come detto, in ottica lavorativa e anche di gestione, io credo che sia molto più comodo avere uno smartphone che può essere utilizzato anche in questo modo. La schermata va riadattata ogni volta e, cosa molto importante, Samsung ha pensato ad una serie di adattamenti a seconda di come andiamo a utilizzare, ovviamente, il foldable. Possiamo anche utilizzarlo appunto ripiegato e gestire in modo differente le varie applicazioni, che ogni volta però in questo caso vanno a riadattarsi e quindi vanno riaperte a seconda della situazione. Quindi, quando ho il telefono in modalità aperta, per andare a gestire quello che è l'apertura multipla delle varie applicazioni, dovrò andare chiaramente a riaprirle manualmente e questo porterà alla mia visualizzazione delle differenze, perché ovviamente avrò ora tutto schermo nella parte orizzontale, però se vado a prendere un'altra applicazione che in questo caso possiamo utilizzare come Maps, per esempio, anche se lo utilizzo lo stesso, ovviamente vediamo che l'adattamento della visualizzazione viene rifatto da capo, quindi non eredita quello che era stato fatto in precedenza. Tutto poi può essere gestito automaticamente e questo ci porta numerosi vantaggi. Ho avuto possibilità di utilizzarlo in esterna, magari quando lavoro con il portatile, avere uno schermo più grande, anche di supporto alle varie attività online, può sicuramente dare una mano, ma anche semplicemente leggendo un contenuto, andando appunto in rete, leggendo un articolo che può essere su textart.it, possiamo comunque andare a vedere che la visualizzazione ci permette di avere molto più spazio a disposizione e quindi questo può darci un po' di malleabilità in più, soprattutto se vogliamo un testo grande, comunque lo spazio in più è sempre un plus aggiuntivo. Veniamo al software. Il software è stato aggiornato, lo abbiamo visto nella recensione di entrambi recentemente, alla One UI 3.0 che Samsung ha rilasciato su Galaxy Z Fold 2 come aggiornamento, mentre esce nativo su Galaxy S21 Ultra. Un software che sicuramente può essere molto pesante sotto certi punti di vista, ma che sui Samsung, grazie anche alle ottimizzazioni, non si sente particolarmente. È una delle personalizzazioni di Android in termini di grafica più coerente e anche più semplice da usare per chi magari è meno avvezzo a utilizzare software differenti, interfacce differenti, icone differenti che non troviamo chiaramente su iOS o su altri tipi di sistemi. Una differenza sostanziale relativamente alla scelta può essere quella relativa alla fotocamera perché il modulo, come vi ho fatto vedere prima, è un po' diverso. Andiamo un attimino ad analizzarlo. Qui abbiamo chiaramente una quadrucola fotocamera nella parte posteriore e un modulo dedicato anche a fare foto 100x come è anche sul Galaxy S20 Ultra che è migliorato, ci permette di fare uno zoom davvero elevato e ovviamente questo è possibile grazie al sensore da 108 megapixel che troviamo nella parte posteriore. Su Galaxy SZ Fold 2 invece abbiamo tre fotocamere uguali per risoluzione con ovviamente obiettivi differenti e si tratta di sensori da 12 megapixel e le lenti che troviamo sono quella ultra wide quindi il grand'angolo, un teleobiettivo 2x quindi col doppio dell'ingrandimento e una fotocamera wide standard sempre da 12 megapixel cambia leggermente l'apertura di diaframma ma la qualità fotografica chiaramente c'è in entrambi i casi se cerchiamo qualcosa di più spinto e più variegato può andar meglio il Galaxy S21 Ultra perché abbiamo a disposizione non solo il sensore a 108 megapixel come anticipato sulla parte wide quindi la fotocamera standard ma la possibilità di scattare fotografie con uno zoom che può arrivare sia a 3x ottico sempre con un altro sensore con 10 megapixel ma anche con uno zoom ibrido 10x quindi questo ci permette di fare delle foto più da lontano mantenendo un ottimo livello qualitativo poi il 100x chiaramente ci farà perdere qualcosa dal punto di vista della qualità discorso similare anche sulla fotocamera frontale che chiaramente è unica per quanto riguarda il Galaxy S21 Ultra mentre sullo 0 sullo Z Fold 2 ne abbiamo due una all'interno quindi qui è anche molto mascherata come anche sull'S21 Ultra che vediamo solo il piccolo foro tra virgolette della fotocamera frontale e ne abbiamo una da ben 40 megapixel sul Galaxy S21 Ultra mentre gli altri due sensori perché qui ce n'è uno e dall'altra parte quindi andando a richiudere lo smartphone e riaprendono nella parte frontale ne abbiamo un altro sono sensori da 10 megapixel in entrambi i casi per videochiamate o utilizzo diciamo tramite rete internet o 4G o 5G perché entrambi sono compatibili con il 5G ovviamente vanno più che bene sul lato della qualità chiaramente avremo qualcosa in più dal punto di vista del Galaxy S21 Ultra grazie appunto alla risoluzione nettamente superiore in ogni caso non ho avuto problemi di utilizzo in entrambi i smartphone quindi per me non ha rappresentato una grande differenza quello che ci può essere come appunto punto di scelta può essere la fotocamera posteriore come abbiamo visto poi dal punto di vista della realizzazione troviamo materiali ottimi in entrambi i casi alluminio e non solo che rilegano tutta la cornice da entrambe le parti quindi su questo ovviamente su top di gamma Samsung c'è poco da aggiungere perché da sempre hanno questo livello qualitativo dal punto di vista multimediale in entrambi gli smartphone troviamo delle ottime esperienze tra le migliori disponibili perché abbiamo a disposizione chiaramente lo schermo AMOLED di cui ho parlato poco fa ma anche chiaramente la possibilità di andare a sfruttare uno schermo molto più grande quando utilizziamo lo Z Fold 2 dal punto di vista dell'audio abbiamo da entrambe le parti un audio stereo grazie alle capsule che sono presenti sulla parte superiore che vediamo qui nella parte inferiore quindi più immersivo magari sullo Z Fold 2 mentre ovviamente sull'S21 Ultra come siamo abituati a vedere l'audio va sulla capsula auricolare da un lato e nella parte inferiore abbiamo una cassa dedicata da entrambi i casi è veramente ottimo quindi non da alcun tipo di problema può dare qualcosina in più in forma di potenza sullo Z Fold 2 in entrambi i casi non abbiamo differenze sulla risoluzione dei colori possiamo anche scegliere il settaggio del pannello e vedere come preferiamo qualsiasi contenuto ma cosa molto importante sul Galaxy Z Fold 2 abbiamo un altro tipo di foro factor chiaramente molto più squadrato mentre quello classico che abbiamo in 29 sull'S21 Ultra ovviamente come vi ho fatto vedere nella recensione lo Z Fold 2 gode di alcune ottimizzazioni software quindi nel momento in cui ad esempio vado a richiudere leggermente lo smartphone posso poggiarlo utilizzarlo magari vedendo frontalmente lo schermo e qui sotto andare a scorrere per quanto riguarda i contenuti collegati oppure andare a vedere i commenti all'interno del video quindi questo chiaramente può essere più comodo sono chicche e ottimizzazioni che sono state fatte da parte di Samsung se lo vado a ristendere vediamo che torniamo alla visualizzazione principale tiriamo le somme poi con quello che riguarda la parte di connettività come detto prima abbiamo su entrambi gli smartphone il 5G quindi pronti alle reti di nuova generazione manco a dirlo alla fine memoria UFS 3.1 che permette di ottenere delle prestazioni elevatissime per quanto riguarda la scrittura dei vari dati e in questo caso c'è un'importante precisazione da fare ovvero il fatto che sullo Z Fold 2 non abbiamo la possibilità di andare a inserire la scheda microSD come neanche sull'S21 Ultra sono smartphone che arrivano in tagli di memoria differenti di partenza questo è 256 GB di base può essere disponibile 512 qui partiamo da 128 256 sempre con 12 GB RAM se prendiamo come detto prima il modello top di gamma arriveremo a 16 GB RAM e 512 GB di memoria il Bluetooth è leggermente più aggiornato sull'S21 Ultra con lo standard 5.2 ma alla fine sono dettagli all'effettivo io credo che la discriminante sia quella relativa assolutamente al display perché adesso andremo a prendere magari con lo Z Fold 2 spendendo anche qualcosa in più uno smartphone che ha un processo produttivo meno recente con chiaramente qualche mese in più dall'uscita sul mercato ma non troveremo differenze sostanziali andandola a utilizzare anche in modo molto acceso e spinto durante la giornata in modo molto pesante quindi se lo schermo più grande a me piace tantissimo abbiamo visto nella recensione lo vado a preferire anche rispetto al form factor tradizionale ci dà quel qualcosa in più che non troviamo sullo form factor tradizionale io andrei chiaramente per lo Z Fold 2 viceversa se cerchiamo una fotocamera più prestante vogliamo fare foto da lontano questo bisogna dirlo o cerchiamo un modulo fotografico più prestante però in situazioni più particolari come spiegato potremmo andare sull'S21 Ultra su foto standard quindi foto da vicino comunque andando a cercare qualche scatto estremamente particolare non troveremo anche se abbiamo più risoluzioni da quest'altra parte sul lato pratico e sul dirizzo digitale particolari differenze dal punto di vista della fotocamera quindi io vi saluto come sempre lasciare un like a questo video se il video vi è piaciuto e vi è servito e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi per qualsiasi domanda potete scrivermi come sempre nei commenti sotto il video o direttamente su Instagram tramite i link in descrizione io come sempre vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo e noi ci vediamo e noi ci vediamo